Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Fare attenzione alle condizioni meteo, nebbia in A1 sul tratto appenninico, vento forte al bivio a 11 a 12 e pioggia sulla Fipilì. Sulla Fipilì per lavori, in direzione mare, un chilometro di coda tra Lastra Assigna e Montelupo Fiorentino. In direzione Firenze è chiusa l'uscita di Ginestra. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!